All'orario ufficiale, quindi attenzione al cartello 15 e poi Cinthia a te per la partenza, vai! E ci siamo, pronti per seguire i primi metri, cartello del 15 che è già stato esposto, pioggia che continua a cadere, andiamo a tutto più difficile, cartello dei 5 secondi a via! In questo momento si morirà dal frizionato!